Avete mai visto su TikTok quei video in cui i giapponesi soprattutto mettono in fila tante palline colorate, le fanno cadere contemporaneamente lungo una discesa e fanno percorrere queste palline una specie di pista, un circuito, come se fossero delle automobili di Formula 1. E allora vedi queste palline colorate che scendono nel primo gradino e in virtù di chissà quale legge dei grandi numeri, di quale casualità, corrono, si superano, urtano gli ostacoli, prendono le curve più velocemente o più lentamente, insomma alla fine c'è la pallina che precede tutte quante, c'è la prima, la seconda e la terza, si fermano tutte quante in un ordine molto particolare. Quando inizia questo video il signore di turno dice sempre oppure scrive scegli quale pallina secondo te vincerà. Oh, io mi diverto sempre moltissimo perché quando passano questi video a volte ci sono proprio delle lunghe live in cui fanno queste gare, io mi diverto a puntare su una pallina, su quella gialla che ha quel numero, o su quell'altra pallina, su quella verde, ognuna è numerata e ognuna ha un colore diverso. Ecco, mi diverto e magari trascorro quel minuto, quei due minuti di questa ardua competizione a guardare, quasi a spingere realmente questa caspita di pallina affinché vada più veloce degli altri, affinché prenda la curva parabolica in maniera migliore degli altri. Ecco, in quegli istanti mi rendo conto di essere veramente un bambino. Mi rendo conto di avere probabilmente innato e radicato dentro di me l'ormone di Peter Pan. Mi rendo conto di avere quella stessa sensazione che avevo da bambino quando facevo qualcosa di simile. Anche con le palline l'ho fatto, però sapete, le palline corrono troppo veloci, non avevo il circuito. Cosa facevo io invece da bambino? Raccoglievo modellini delle automobili, quelle piccoline che trovavi nell'uovo di Pasqua, oppure quelle che ti regalavano, quelle con una scala particolare, per cui macchinine di 5-6 cm, mi ero dotato di uno scivolo, le facevo scendere uno alla volta e misuravo la distanza e facevo dei veri e propri campionati in cui c'era una macchinina che statisticamente arrivava più lontano rispetto alle altre, eccetera, eccetera. Ecco, mi starete forse dando del pazzo, dell'irrazionale del bambino. È esattamente così che io mi sento, è esattamente così, ne sono certo, che ognuno di noi, ognuno di voi, ce l'ha quella sensazione bambinesca all'interno, quella sensazione di divertirsi con poco, quella sensazione persino di essere cresciuto fuori ma rimasto piccolo dentro. Lo so, è una banalità quello che sto dicendo, ma ricordate l'effetto Baglioni, ne abbiamo parlato alla prima puntata di questo podcast. Nel primo episodio raccontavamo come Baglioni abbia la grande abilità di esprimere concetti che tutti pensano ma che difficilmente sanno mettere in parole. Ecco, questo è uno di quelli. Ognuno di noi, dentro di sé, si sente ancora come se fosse un tredicenne, un quattordicenne, un quindicenne, un sedicenne, in base a quale è stato il periodo più florido, più sereno, più impattante e piacevolmente scioccante della tua vita. Ognuno di noi o è fermo in una certa sua epoca, oppure si diverte a scorrazzare in lungo e in largo andando a sentirsi esattamente come ci sentivamo quando eravamo bambini. E quando io su TikTok vedo queste dannate palline che corrono. E mentre lascio correre quel minuto, quei due minuti di vuoto assoluto, perché cazzo, sto guardando delle palline che corrono, fatte cadere da un giapponese dall'altra parte del mondo, ma vi rendete conto la vuotezza di quell'istante? Però io me la godo tutta, perché io non voglio smettere mai di sentirmi come mi sentivo quando ero un bambino e con la pallina da tennis cercavo di fare canestro dietro la porta della camera da letto aperta. Avete fatto? Avete mai aperto la porta della vostra camera da letto lasciando dietro quello spazio e utilizzarlo magari come un canestro. Io passavo degli interi pomeriggi a cercare di fare canestro. Se la pallina entra domani non mi interroga in latino. Se la pallina entra quella ragazza la incontrerò alla festa sabato. Se la pallina non entra muore mio cugino. La pallina non entrava. Allora tu dici bene allora faccio altri tre tentativi. Questa irrazionale e inconcludente meravigliosa sensazione di libertà e di fantasia che hanno i bambini e i ragazzi. Io non l'ho meno serioso. Ti porta ad andare alla ricerca dell'autorevolezza non dell'autorità per carità dell'autorevolezza. La vita ti porta a dover essere credibile a dovertela sgrattare con i grandi in un mondo di grandi ma tu lo sai perfettamente che davanti c'hai degli adulti che dentro sono bambini. Altrimenti non si spiegherebbe perché quando poi fai amicizia con una persona inizia a fare dei giochi adolescenziali. Quando ci vai in vacanza ti diverti veramente con nulla. Quando ti siedi a tavola con loro davanti a un bel bicchiere di vino rosso inizia a dire le stesse stronzate che dicevi quando avevi 12 anni 15 anni. Perché dentro di noi l'anima di quella persona che si diverte a vedere rotolare le palline c'è c'è in tutti ed è maledetta la persona che non lo ammette o che meglio non riconosce dentro di sé che c'è ancora quel fanciulletto come diceva qualcuno. E che tu faccia business o meno ma soprattutto se tu fai un'attività di business non puoi trascurare la leggerezza dell'animo che ha un bambino. Perché ti servirà per giocare quando fallirà i tuoi tentativi. Ti servirà per rilanciare la tua azione. Perché quando la pallina non entrava tu davi a te stesso altre possibilità. Poi giuravi e spergiuravi no no questa volta se la pallina non entra mi interroga in matematica. La pallina non entrava e tu ancora una volta dicevi allora facciamo così su dieci tiri se almeno cinque non entrano. Questa strategia di rilancio della propria idea della propria motivazione questo sentirsi bambini questo entusiasmo del cadere e rialzarsi non è una prerogativa una caratteristica degli adulti ma dove volete che dove cazzo vadano gli adulti con un pensiero d'adulto il mondo è condotto da persone che sono bambine dentro. E gli errori e le cose meravigliose che gli adulti fanno lo fanno perché c'è o non c'è quella parte bambinesca. Gli eccessi di un adulto a volte accadono perché c'è una parte bambinesca dentro di noi che continua a bussare e a voler uscire. Ecco il consiglio è quello di di capitalizzare di far uscire nella maniera più gioiosa e sana possibile la parte bambina che c'è in ognuno di noi ma non rendetevi sordi alla voce della bambina che eravate o del bambino che eravate lasciatevi andare basta prendersi sul serio basta dire no io Sanremo non lo vedo ma guardatelo e divertiti a cantare le canzoni no ma io non vedo questo no ma io non faccio io non gioco a calcetto no io non mangio le patatine ma perché? Un bambino non lo direbbe mai un bambino non tradirebbe mai il suo istinto e perché un adulto dovrebbe tradire il suo istinto? Ricordate che siamo nati tutti identici ma unici ognuno di noi unico e irreplicabile ma siamo tutti potenzialmente delle anime infinite con la capacità di brillare e sai quando brilla una persona? Quando è cresciuta facendo portando con sé il bambino che è stato e se tu ricorderai il bambino che sei stato continuerai a divertirti con poco continuerai a rispettare gli altri continuerai a rispettare le istituzioni le persone più anziane quelli che sanno qualcosa in più di te è fondamentale sentire e sentirsi come sentono e come si sentono i bambini fa veramente la differenza non esiste un grande adulto senza che dentro di lui ci sia sempre lo stesso immenso bambino.